Alla vigilia della partenza per il suo viaggio apostolico in Armenia, dal 24 al 26 giugno, Papa Francesco ha salutato in un videomessaggio i fedeli armeni. Il Pontefice ha sottolineato che sarà pellegrino nel primo paese cristiano, come recita il motto del viaggio, per abbeverarsi alle sorgenti della vostra fede, rocciosa come le vostre famose croci, scolpite nella pietra. Vengo verso le mistiche alture dell'Armenia, come vostro fratello, animato dal desiderio di vedere i vostri volti, di pregare insieme a voi e di condividere il dono dell'amicizia. La vostra storia e le vicende del vostro amato popolo suscitano in me ammirazione e dolore. Ammirazione perché avete trovato nella croce di Gesù e nel vostro insegno la forza di rialzarvi sempre, anche da sofferenze che sono tra le più terribili che l'umanità ricordi, dolore per le tragedie che i vostri padri hanno vissuto nella loro carne. Ai ricordi dolorosi non permettiamo di impadronirsi del nostro cuore. Anche di fronte ai ripetuti assalti del male non arrendiamoci. Facciamo piuttosto come Noè, che dopo il diluvio non si stancò di guardare verso il cielo e di liberare più volte la colomba finché una volta essa ritornò a lui portando una tenera foglia di olivo. Era il segno che la vita poteva riprendere e la speranza doveva risorgere. Grazie. Grazie. Grazie.